Blockchain, Bitcoin, Mining, JavaScript Mining, sono tutti quanti concetti che davvero per essere spiegati e metabolizzati richiedono tanto tempo. Bene, io ho provato a farlo in 40 minuti durante una conferenza, mi riferisco alla conferenza che c'è stata qualche settimana fa a Milano, CodeMotion Milano, dove ho ottenuto un talk proprio su questi argomenti. La registrazione di quel talk è disponibile, la potete vedere nella sua completezza sul canale ufficiale di CodeMotion, sul canale YouTube ufficiale di CodeMotion. Ve ne riporto qui un pezzo, quindi solo uno spezzone di questo speech, di questo talk. Fatemi sapere come al solito che cosa ne pensate, se vi è piaciuto mettetemi un like, prossimamente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane ci saranno tante altre sorprese perché parteciperò sia come speaker che come attendì, come partecipante a tantissime altre conferenze. Quindi buona visione, mettetemi un like se vi è piaciuto, lasciatemi un commento per dirmi che cosa ne pensate di quello che dico e di quello che mostro durante questo speech, questo seminario. Ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Io sono famoso per non riuscire mai a finire la presentazione, quest'anno mi sono detto no ci devo riuscire, poi ho visto il numero delle slide e si ripeterà anche quest'anno. Comunque le slide le avrete tutte quante, quindi comunque avrete la possibilità di guardarle fino alla fine, farò del mio meglio, però le informazioni che voglio passare sono davvero davvero tante. Saranno informazioni, parlare di blockchain si potrebbe parlare per mesi, probabilmente per anni di blockchain, quindi non è un blockchain, bitcoin, ethereum, smart contracts, ci ho messo tutto nel titolo. Oggi in realtà ci concentreremo su un aspetto che riguarda più la parte di monetizzazione, usando queste tecnologie e in realtà non solo queste tecnologie, quindi piuttosto che farvi vedere degli use cases, dei progetti, qualcosa c'ho da mostrarvi. Comunque diciamo che il messaggio che volevo passare con questa presentazione e mi rendo conto che è piuttosto challenging, spero di non fallire in questo, è soprattutto come noi developer, credo che la maggior parte di voi siete, credo siete developer, quanti developer ci sono in sala? Ok perfetto, siamo a code motion del resto. Come usare le vostre, le nostre skill per monetizzare in maniera più intelligente le vostre competenze, utilizzando la blockchain, utilizzando queste nuovissime tecnologie, quindi tendenzialmente io tendo a parlare molto più dell'aspetto finanziario, oggi meno dell'aspetto finanziario, invece più dell'aspetto diciamo tecnico, tecnologico, quindi vi spiegherò un po' come funziona a livello alto la blockchain, cosa sono i blocchi, come vengono minati, qual è il ruolo dei minatori, se col mining ancora si guadagna oppure ormai è utopia. Alcune tecniche di mining client side che utilizzano javascript, che sfruttano la cpu, capirete perché oggi pensare di poter minare bitcoin in maniera privata e autonoma è praticamente impossibile, o comunque non vi ritorna indietro niente. Qualcuno di voi fa mining? Su bitcoin? Qualcuno fa mining su bitcoin? Guadagni facendo mining su bitcoin? Ha detto di no ovviamente il ragazzo, infatti bisogna cambiare criptovaluta, però ci sono ancora spazi per, partirò tra pochi minuti e vi racconterò un po' la mia storia, cercherò di tenerla veramente in 5 massimo 7 minuti la presentazione, però mi serve a spiegarvi perché sto qui su questo palco in una veste leggermente diversa di come ho sempre fatto, Storicamente parlo a Code Emotion quando era Java Day, quindi parliamo di 10-12 anni fa probabilmente, poi è diventato da Java Day a Roma, è diventato Code Emotion, poi siamo venuti qua a Milano, quinta edizione, special edition come ha detto Chiara prima. Ho sempre parlato di aspetti estremamente tecnici, storicamente sono uno sviluppatore, ho iniziato a sviluppare a 14 anni e grande passione per questo mondo che poi in realtà non è scemata ma si è trasformata, Di questa trasformazione voglio parlarvi qui e di come la blockchain e, adesso dico una parola senza voler spaventare nessuno, di come la blockchain e il trading, il trading però quello matematico, il trading quello statistico, il trading quello automatico, ha cambiato un po' la mia vita, Comunque mi ha fatto prendere una direzione completamente diversa rispetto a quella che avevo preso 15 anni fa probabilmente, vi direi che negli ultimi 7 anni la mia vita è cambiata drasticamente, Il cambio è stato un cambio voluto, è stato un processo, non è che è successo qualcosa, non ho comprato bitcoin nel 2010 a 0,01 centesimo e sono diventato ricco, non sono uno di quei pochi fortunati milionari che se li sono tenuti, Quindi non parlo di quel cambiamento, parlo del cambiamento dal giorno alla notte perché ti cambia la vita o una cosa del genere, parlo invece di un cambiamento strutturato, ragionato, pensato, partendo da un obiettivo molto preciso che era quello di togliere dall'equazione del mio tempo il reddito che percepivo, diciamo che negli ultimi 10 anni sono stato piuttosto ossessionato da questa cosa, Manca un minuto direi che possiamo far partire le slide, fatemele solo mettere, quindi vi sto raccontando di questa evoluzione ripeto strutturata, voluta per togliere dall'equazione appunto lo scambio del mio tempo per soldi, Se siete dei dipendenti è un concetto piuttosto semplice, lavorate, venite pagati, a fine mese ci avete lo stipendio. Il problema di questo modello è che ovviamente non è assolutamente scalabile, cioè per quanto voi riusciate ad acquisire competenze, ad essere bravi, a sapervi vendere bene, a scegliere i progetti giusti e i clienti giusti in Italia e all'estero, indipendentemente dal paese, Ci sarà un limite, qual è il limite che avete? Il limite più grande che affrontate? Il tempo che è l'unica costante universale, è uguale per tutti, potete lavorare tanto per cercare di guadagnare tanto, potete aumentare la vostra tariffa, Tutte cose che ovviamente ho fatto e ho provato, ma a un certo punto vi dovete fermare, vi dovete fermare per stress, perché è estremamente stressante lavorare su più progetti, su più fronti, tante ore al giorno, Quando dico tante ore vuol dire 14-16 ore al giorno, perché si può arrivare anche a lavorare così tanto e si può anche arrivare a guadagnare molto bene. Immaginate di avere una tariffa di 1200 euro al giorno, fatevi un attimo la moltiplicazione, vi vendete da consulente, libro professionista, fate voi il calcolo. Il problema è che, ripeto, quello è il massimo che riuscirete mai a guadagnare. Quindi quello che ho fatto, ho cercato di maniera piuttosto ossessiva in realtà di passare da questo modello, che è il modello delle mie competenze vendute al miglior offerente, per generare reddito e generare soldi, a cercare invece di, ovviamente si portava dietro, più progetti prendo, più tempo lavoro, però più guadagno. E questa è un'equazione piuttosto basilare e semplice. Scalabilità zero, ovviamente. E quindi ho cominciato, la fase Marco 2.0 la chiamerei, ho cominciato a cercare di capire come potevo rendere scalabile invece questo modello. E l'ho fatto provando veramente tante tante cose, tante attività diverse, tanti business. La diversificazione è un altro importante concetto, secondo me nell'economia di oggi è ancora più importante. Cioè per diversificazione di entrate intendo, per quanto mi riguarda, ed è strettamente personale come opinione, pensare di avere un'unica fonte di reddito oggi, nell'economia di oggi, è pura follia. E' come andare al casino e scommettere tutto quanto sul 23, che se esce va tutto bene, se non esce dovrete affrontare problemi molto molto importanti. Quindi ricordatevi questo concetto della diversificazione che tornerà dopo. Ho provato a fare tante tante cose, sbagliando spesso, a volte azzeccandoci. Ho gettato le basi di quello di cui parlerò oggi in realtà. Quindi che cosa ho fatto? Ho creato un'azienda, ho creato la mia azienda di sviluppo, consulenza di sviluppo. Non voglio dire che ho fallito perché l'azienda esiste ancora, è andata fortissimo. All'epoca siamo stati, io ero un consulente di Macromedia Italia ai tempi del Flash Player. Poi Adobe, quando ci fu l'acquisizione, eravamo straspecializzati nell'integrazione di Enterprise Application per fornire un'interfaccia utente alle applicazioni legacy enterprise che tenesse più conto della user experience delle persone. Quindi Flash, Flex, ActionScript integrato a Java. E anche qui però a un certo punto ho notato che c'era un grosso ostacolo di scalabilità e l'ostacolo era dato dalla tecnologia. Viviamo in un momento storico, oggi ancora più che ieri, in cui il refresh tecnologico è altissimo. Quindi anche fare banalmente il consulente o avere un'azienda tecnologica vuol dire ogni sei mesi studiare qualcosa di diverso, di nuovo, e farlo apprendere al proprio team, ogni anno e mezzo, due anni fare quasi un hard fork di tecnologico e fare un refresh completo. Quindi è un modello dal punto di vista della sostenibilità molto difficile e ve lo dico perché l'ho affrontato. E quindi mi sono reso conto che effettivamente sì, magari guadagnavo di più, magari avevo svincolato un po' del mio tempo dall'equazione soldi-tempo, perché quando hai un'azienda hai persone che lavorano per te, quindi le possibilità di guadagno sono diverse, ovviamente. Però c'è quest'altro grande ostacolo, ho pensato di scrivere dei libri, i libri sono una delle rendite passive più sciocche che uno può pensare di fare, sciocche nel senso che è facile pensare di scrivere un libro e prendere l'eroe altissimo una volta che l'hai scritto. Ne ho scritti tanti, ne ho scritti sei, sette, otto, non mi ricordo. Di nuovo mi sono scontrato col problema della scalabilità. Ogni sei mesi il libro andava riaggiornato, ogni anno era da buttare e ne dovevi fare un altro nuovo. Insomma, poco scalabile. Applicazioni web e mobile, ci troviamo sempre di fronte allo stesso problema. Corsi online, qui è andata meglio, soprattutto quando mi sono staccato dalla parte di tecnica tecnologica dei corsi online. Quindi corsi online su altre materie che richiedevano un refresh, un aggiornamento minore. Network marketing, ho avuto esperienze diverse su vari fronti, ottimo modello ma non faceva assolutamente per me. E vabbè, questi sono i libri che ho scritto. E poi, qui veniamo al dunque, alla tematica di oggi, a un certo punto ho incontrato il trading. Lo so che adesso starete pensando, Marco, ma quindi tu conosci la casalinga romana, single, che guadagna 7.650 euro a settimana? No, al mese gira in limousine e fa shopping e spende soldi con un investimento di 100 euro. No, non la conosco, ma non la conosco perché non esiste. Non esiste lei come non esiste il chirurgo che guadagna 7.000 euro al mese in più, facendo trading mentre opera la gente o la persona che pensava di essere troppo vecchio per questo lavoro invece adesso è diventato ricco e così via, immagini addirittura di broker finanziari che mostrano il miglior trader del 2013 che ha guadagnato 4.778.000 dollari in metà anno, in 185 giorni, magari con, non lo so, 500 euro di capitale, 500 dollari di capitale, o vabbè, qui il mozzo, o forse è un pilota, non lo so, che lui fa 1.000 euro in pochi minuti, pensate, è velocissimo, è precocissimo, senza alzarsi dalla sedia tra l'altro. Comunque, parlando di trading potreste avere quest'altra immagine, no? Il trader incollato sulla scrivania, seduto con 750 monitor, con tutti questi grafici aperti, pieni di indicatori di mercato che, vi assicuro, sono illegibili anche per la persona che fa trading, cioè, quello non vuol dire fare trading, non vuol dire avere chiarezza di identificazione delle situazioni e di scenari di mercato, lo si fa solo perché fa fico avere una station multiscreen di quel tipo, non serve a niente per il trading. Quindi, toglietevi dalla testa tutte queste cose che col trading si guadagna facilmente, che è la gallina dalle uova d'oro, che è la bacchetta magica per trasformare i vostri 100 euro di risparmi in un milione di euro a fine anno. Non esiste con le criptovalute, non esiste più con bitcoin, perché c'è stato un momento storico in cui, con grande lungimiranza e anche grande fortuna, quella con la C però maiuscola, qualcuno effettivamente che aveva fatto l'investimento si è poi dimenticato di ritirare i fondi e dopo due o tre anni si è ritrovato in mano una miniera d'oro. Però, a parte queste piccolissime episodi, rarissimi tra l'altro, il trading invece è tutt'altro. E quindi mi sono detto, però noi siamo di velo, per sono un di velo, per programmo ci deve essere il modo di monetizzare quello che so fare ed applicarlo al mondo della finanza. Nel frattempo avevo cominciato a studiare, io non vengo da studi finanziari, non ne sapevo nulla, avevo difficoltà anche a capire che cos'era il prodotto interno lordo, zero, niente. Quindi mi sono documentato, ho studiato, la materia mi ha affascinato molto, non lo nascondo. E ho scoperto invece un altro filone del trading, il trading automatico. Automatico nel senso automatizzato da algoritmi. Quindi la possibilità di programmare, attraverso linguaggi di programmazione, anche quelli che comunemente usiamo, C Sharp, Java, Python, va tantissimo in questo settore, e altri linguaggi proprietari molto semplici, se siete un programmatore. Quindi ho scoperto che c'era la possibilità di lavorare a sistemi, a trading system, che potevano generare soldi al posto tuo. Veramente, mentre tu lavoravi o mentre dormivi la notte, questi sistemi scansionavano i mercati, seguendo delle regole e un backtesting estremamente scientifico, di nuovo, in questo business, come in qualsiasi altro business, non ci si improvvisa. Quindi non è qualcosa che dici, ok, studio due settimane, faccio un corso di due giorni, poi sono pronto ad arricchirmi. Non funziona assolutamente così. Il trading è un business come aprire una start-up, come aprire una pizzeria, come decidere di creare una web application. Ha le stesse difficoltà di inizio, di studio, bisogna capire il business, bisogna testare, ritestare, cambiare, modificare. È un processo continuo. Non è che lo fate una volta e ve lo ritrovate per sempre. Assolutamente no. E quindi il trading automatico, l'i-frequency trading, è un mondo vastissimo, enorme, se comincerete ad approfondirlo. Qualcuno di voi ha già fatto trading sui mercati finanziari classici, non su mercati come quello delle criptovalute. Vedo qualche mano alzata. E infine è arrivata la blockchain. E sono arrivate le criptovalute. Allora ragazzi, la blockchain, sarà una frase fatta, quello che vi pare, è veramente la prossima, the next thing, come dicono gli americani. È una rivoluzione al pari di internet nel 1990. Parliamo di questo tipo di rivoluzione. Ora siamo in un early stage, veramente early, early stage, dal punto di vista dei progetti, delle potenzialità, di quello che le aziende stanno ancora capendo come possono usarla o come non possono usarla. Le criptovalute sono solo un'applicazione che sfrutta la blockchain. Sono solo queste. Criptovalute non vuol dire blockchain. Le criptovalute sono basate sulla tecnologia della blockchain. In particolare Bitcoin, che sicuramente è la criptovaluta che conoscerete di più, se ne parla nell'ultimo mese, è esploso, se ne parla tantissimo. Ho un canale YouTube, non so se quanti di voi conoscono già il mio canale YouTube? Pochi? Male, male. Ho un canale YouTube dove quotidianamente parlo di Bitcoin e criptovalute, non solo Bitcoin, di criptovalute, ovviamente con un taglio un po' più finanziario rispetto a sviluppo, a tecnicismi, però se vi interessa mi trovate come Marco Casario su YouTube. Questa è la history di Bitcoin, solo per farvi vedere che il mondo delle criptovalute e della blockchain, perché è andato a pari passo in realtà, è nato recentemente. Cioè il cosiddetto Genesis Block, il primo blocco, la prima transazione avvenuta con Bitcoin è datata 3 gennaio del 2009. Quindi parliamo veramente di otto anni fa, pochissimo, niente, la storia è zero. Motivo per cui chi viene dal trading dei mercati finanziari classici di certo non può pensare di applicare le stesse pratiche, la stessa teoria, le stesse tecniche su un mercato così giovane e così nuovo. Perché mi piace Bitcoin? Perché mi sono subito affascinato alla blockchain e a Bitcoin come token. Per questo motivo sicuramente, perché se avessimo investito 1000 euro di Bitcoin a novembre del 2015, oggi ne avremmo in due anni quasi 40.000, ha fatto il 2700% in due anni. Non esiste in nessun altro mercato un'esplosione di questo tipo. E ancora oggi, queste sono le candele giapponesi che rappresentano l'escursione del valore, del prezzo dell'asset, in questo caso di Bitcoin, nell'arco di tempo. Ogni candela è una settimana. Vedete qua come bene o male è sempre stato tra i 100 e i 300 dollari, è salito, è sceso, è salito, è sceso, boom, poi è esploso. Qui stiamo a inizio 2017 ragazzi, stiamo a febbraio-marzo del 2017, è esploso e guardate che cosa ha fatto. Molti dicono che è una bolla, molti dicono che esploderà in quanto tale e potrebbe, assolutamente, può succedere. Diciamo che la bravura è riuscire a monetizzare prima che la bolla esploda. Detto questo, non ci dimentichiamo che ogni volta che una bolla esplode, la nostra vita cambia per sempre. Pensate alla bolla esplosa del 2001, delle dot com, no? Dopo quell'esplosione la nostra vita è cambiata per sempre e probabilmente succederà qualcosa di molto molto simile. Però Bitcoin, questo è quello che sta facendo, Bitcoin si basa sulla blockchain e la blockchain oggi, perché se ne parla così tanto è diventata a un certo punto, è arrivata sulla bocca di tutti? Perché risolve un problema che oggi è molto molto importante. Internet è stato un po' come un pendolo, cioè è iniziato in maniera estremamente decentralizzata la nascita di Internet, poi siamo passati ad un livello di estrema centralizzazione, e quindi immaginate questo pendolo che da decentralizzato è passato a modello centralizzato, sia dei dati che delle architetture, poi modello distribuito, e poi siamo tornati indietro e stiamo tornando, ecco perché è un pendolo, perché stiamo tornando invece alla soluzione di questo problema, cioè quello che oggi i nostri dati e la nostra privacy è in mano ad enti e aziende totalmente centralizzate, come del resto lo sono le fiat, le valute fiat, come lo sono l'euro, come lo è il dollaro, sono i governi e le banche centrali che decidono se pompare denaro, creare inflazione, addirittura mettere tassi di interessi negativi, il Giappone lo sta sperimentando, ma nessuno sa se questa decisione nel medio-lungo termine porterà benefici o meno. Quindi con la blockchain torniamo, vi consiglio di leggere questo libro che è magnifico, assolutamente, Who Owns the Future di Geron Lanier, non perdo altro tempo a dirvi nient'altro, ma leggetelo, è veramente veramente interessante, se volete fare la foto fatela adesso. La blockchain è importante perché torna verso il vecchio modello centralizzato, dove non c'è un ente, una banca, un governo, l'FBI, Facebook, Amazon a detenere il potere delle informazioni, dei dati, delle architetture. E questa è un po' la sintesi grafica del modello centralizzato. Qual è il problema del modello centralizzato? Oltre al grosso potere che crea chi ha la centralizzazione di quelle informazioni c'è anche il problema del single point of failure, no? C'è tutto concentrato in quel nodo, se quel nodo esplode le perdo tutto quanto, motivo per cui siamo passati a modelli distribuiti. Amazon, Google, Facebook, ovviamente non tengono tutte le informazioni su un unico server, ma le distribuiscono su più nodi. Il modello decentralizzato è un modello peer-to-peer, è un modello dove siamo noi stessi i nodi del sistema e se il mio computer si disintegra o i nostri computer in questo momento esplodono, quelle informazioni non sono perse, perché sono comunque backupate e mantenute da altri peer. Avete presente il concetto dei torrent, no? Perché il torrent? È molto simile la fase che oggi stiamo attraversando con la blockchain e le criptovalute rispetto a quel momento storico del torrent. Poi chi l'ha vissuto e se lo ricorda sa anche bene come è finito. Allora, fondamentalmente la blockchain fornisce quella che viene definita una single source of truth, che è verificabile, a prova di manomissione e immutabile. Motivo per cui i governi e gli istituti finanziari e bancari sono piuttosto preoccupati da questo modello, perché non riescono, non riuscirebbero, per come stanno le cose oggi almeno, a controllarlo. Quello che mi piace dire sempre, per far capire immediatamente che cos'è la blockchain, è che la blockchain è un po' come un commercialista digitale, perché non fa altro che scrivere delle informazioni, transazioni, la maggior parte delle volte, ma in realtà può andare molto oltre le transazioni. Con Ethereum posso mettere dentro i nodi molte più informazioni rispetto a Bitcoin, dove posso conservare nei blocchi solo transazioni. Ci sono tre tipi di blockchain, pubbliche, private e cosiddette consortium, a consorzio diciamo. Quelle pubbliche sono quelle che completamente open source, il codice è scaricabile da chiunque, chiunque può creare un fork. Se seguite un po' la vicenda di Bitcoin, negli ultimi tre mesi, quattro mesi abbiamo avuto già tre fork, in realtà uno è saltato. Abbiamo avuto, tutti sapete che cos'è un fork, non lo devo spiegare in questa sala, abbiamo avuto Bitcoin Cash, Bitcoin Gold ed è saltato adesso il B2X, il Segwit2X, che avrebbe aumentato il size dei blocchi, avrebbe raddoppiato a 2 mega il size dei blocchi. Quindi comunque, in quanto pubblica, chiunque può fare un fork. Abbiamo poi le private, che sono invece controllate da un ente. Queste sono le blockchain preferite da chi, secondo voi? Dalle banche, dai governi o dalle aziende private, che dicono che hanno bisogno di mantenere private certe informazioni e quindi usano le blockchain in maniera privata, voi non potete accedere al codice, non potete accedere alle informazioni, niente è tracciabile, è un sistema chiuso. E poi quella consorzio, che invece sono controllate da un gruppo di persone selezionate, in molti casi potete anche decidere di aggiungervi a questo gruppo, previo ovviamente l'ammissione, eccetera, eccetera. Insomma, questi sono i tre tipi di blockchain che abbiamo. La blockchain da sola non può esistere, soprattutto per quanto riguarda le criptovalute. La blockchain ha bisogno dei miners. I miners hanno il ruolo di processare e verificare le transazioni che avvengono. Sono loro che praticamente attraverso super computer risolvono problemi matematici e soprattutto criptografici e che riescono quindi a scrivere, a infilare le informazioni, a creare i blocchi che fanno parte della blockchain. La blockchain sta per catena di blocchi. Immaginate che la blockchain sia un file. Non immaginate che sia. La blockchain è un file. È un file che viene costruito in continuazione. Nel caso di Bitcoin il primo blocco è stato costruito appunto nel 3 gennaio del 2009 e da quel momento si va avanti a creare sempre più nuovi blocchi. Questi blocchi vengono creati dai miner attraverso questo processo di risoluzione di problemi matematici e criptografici. Ecco perché servono computer strapotenti. Bitcoin è molto complessa come blockchain e ha anche molti limiti di scalabilità, motivo per cui oggi, perché prima invece si poteva guadagnare qualcosa facendo mining con Bitcoin, ho fatto investimenti di centinaia di milioni in super computer oppure è impensabile competere con... perché in competizione si va... il miner non c'è un miner, ci sono n miner che provano a risolvere il più velocemente possibile questi problemi matematici al fine di creare il blocco e voi direte ma perché competono questi? Sono scemi? No, non sono scemi perché vengono dal modello rewarded, cioè vengono ricompensati, vengono ricompensati in che modo? Con il token, nel caso di Bitcoin con Bitcoin, nel caso di Monero con Monero e così via con tutte le altre criptovalute. Per ogni risoluzione del blocco vengono dati 12,5 Bitcoin attualmente ai miner che risolvono questi problemi, fatevi un calcolo, un Bitcoin adesso sta a 7000, stamattina stava a 7120 dollari, calcolatevi quanto guadagnano questi miner. Ovviamente i miner più potenti dove sono secondo voi? In Cina, perché stanno in Cina? Perché l'elettricità non costa niente. In America minare un blocco, minare un Bitcoin costa 1000 dollari rispetto all'investimento che è stato fatto. Quello è il costo stimato per il mining di un Bitcoin e voi potreste dire che 1000 dollari non sono così tanti, magari l'investimento che avete dovuto fare è di 10 milioni di dollari. McAfee, che voi conoscerete perché siete dei tecnici, il signor John McAfee è il più grande miner americano, gli altri stanno fondamentalmente tutti in Cina, qualcuno nell'Europa dell'Est. Questa è una, tanto per farvi capire, una miner farm, una mining farm, cioè di questo si parla ragazzi. Perciò i miner che fanno costruiscono i record della blockchain, che sono i blocchi, un record è un blocco nella blockchain, questi blocchi formano Bitcoin, se parliamo di Bitcoin, una criptovaluta se parliamo di un'altra criptovaluta. Che cosa contengono questi blocchi? Ve l'ho detto prima, informazioni, transazioni, per lo più, per alcuni token contengono molte più informazioni come Ethereum, Ethereum può contenere, adesso lo vediamo, se ci arrivo lo vediamo, contiene le transazioni che sono state fatte, motivo per cui il loro lavoro deve essere ripagato, retribuito. Il mining è sostenibile, questo ve l'ho detto, ma non vuol dire che non si può fare mining, no, bisogna solo spostarsi su altre criptovalute. Monero, per esempio, attualmente permette di fare mining client side con librerie JavaScript, adesso vi dico quale libreria JavaScript, perché vi sto parlando di questo? Ricordate sempre il messaggio iniziale, cioè mettere le nostre skill, se si dice al femminile, le nostre skill per cercare di massimizzare in termini economici quello che sappiamo fare. Siete sviluppatori JavaScript, vi piacerebbe approfondire la blockchain e cominciare a guadagnare non più per le righe di codice che scrivete il mining, sappiate che potete fare mining con JavaScript client side e se avete un parco utenti molto ampio che visita le vostre pagine, il vostro sito, vi dico che comincia ad essere interessante dal punto di vista economico. Il cloud mining potrebbe essere, molti dicono sia la nuova frontiera, io ho un po' di dubbi, sono un po' scettico, e cos'è il cloud mining? Nel cloud mining voi fondamentalmente noleggiate un pezzo della mining farm, un piccolo pezzo della mining farm che invece fa il grosso del lavoro e venite ripagati con un piccolo pezzo in percentuale rispetto all'acquisto che fate al contratto che stipulate e venite ricompensati in percentuale del vostro investimento. Molti pensano sia il futuro, ci sono un sacco di soli in giro, se prendete questa strada state molto molto attenti, stare attenti vuol dire documentarsi. Ecco una cosa ragazzi, questo è un mondo, quello della blockchain e delle criptovalute in cui innanzitutto esperti in blockchain si diventa, programmatori esperti in blockchain si diventa non lo so in 5, 6, 7 anni. Quindi io sono un novellino da questo punto di vista perché ho iniziato a interessarmi due o tre anni fa a questa materia. Dovete avere un background, meglio se avete un background dal punto di vista della criptografia dei dati, meglio, meglio se avete una mentalità matematica, ancora meglio, però per dire non pensate che queste cose si possano imparare velocemente. Quindi ripeto, non esiste la gallina dalle uova d'oro, non esiste il business che vi regala i soldi, io non lo conosco, eppure ne ho cercati tantissimi e vi posso confermare che, vi porto un esempio becero, so che mi odieranno molti di voi per quello che sto dicendo, vi ho parlato prima di network marketing, ho studiato molto da vicino i maggiori network marketing del settore, Herbalife è uno di questi, sicuramente lo conoscerete, indipendentemente da quello che pensate, è un modello sostenibile, è un modello che funziona, miei amici, amiche e amici guadagnano tra gli 8 e i 15 mila euro al mese netti e senza tasse che si mettono in tasca facendo quel lavoro, questo non vuol dire che quello è un lavoro che regala soldi, assolutamente, è un business, si fanno il mazzo, si svegliano la mattina, fanno quello che devono fare, lo portano avanti, quindi diffidate, ve lo dico perché se vi è avvicinato al mondo del trading, delle criptovalute sembra tutto facile, sembra facilissimo diventare milionari, facilissimo fare i soldi, non è facilissimo per niente, non lo è affatto, è più facile perderli i soldi, è molto più facile, è stimato che il 92% dei trader a fine anno perdono soldi, il 92%, l'8% rispetto agli istituzionali, agli hedge fund, a quelli grandi, perché quelli sono quelli che i soldi non li perdono, ovviamente, rispetto ai trader amatoriali, ai cosiddetti retail trader che siamo noi, quelli che hanno capitali piccoli, per capitali piccoli non intendo 100 euro, intendo sotto al milione di euro, solo l'8% a fine anno si porta a casa soldi, gli altri perdono e pensate c'è una statistica di uno dei più grandi broker del mondo che dice, che afferma numericamente parlando, che nonostante solo l'8% vincano, più del 58-60% dei trader che fanno trading vincono, come operazioni fatte a fine anno, vincono più volte di quanto perdono, pensate l'assurdità, cioè hanno un fattore, un win ratio superiore al 50%, eppure a fine anno a casa non si portano un profitto, si portano una perdita. Quindi mi raccomando, piedi di piombo, non sto su questo palco a dirvi che è facile, niente è facile, sputerete sangue per farlo, però per quanto mi riguarda è una delle migliori attività per massimizzare rispetto a quello che sapete fare come tecnici, le vostre competenze e aggiungere un reddito, uno più redditi, svincolando il vostro tempo dal lavoro. La blockchain in questo è veramente fantastica. Vi stavo dicendo prima, mining client side, c'è stato un articolo che ha lanciato un po' questa moda perché c'è stato Pirate Bay, un sito di torrent, che in maniera diciamo così non carina, senza avvisare i suoi utenti, ha cominciato a fare mining, lui dice per togliere le pubblicità dal sito, ha cominciato a guadagnare facendo mining, ha fatto parecchi milioni, costringendo ogni volta che vi collegavate al suo sito, automaticamente diventava, la vostra CPU era a disposizione del loro sistema per fare mining su Monero. Come lo facevano? Lo facevano con questa libreria qua, coinhive.js, una libreria javascript di una banalità mostruosa, il claim già dice tutto, monetize your business with your user's CPU power, è semplicissimo da usare, basta aggiungere alla vostra pagina, importate lo script, istanziate l'oggetto miner e cominciate a fare il mining su un lato client, sugli utenti che si collegano al vostro sito. Come qualsiasi altra libreria javascript potete gestire gli eventi per sapere quanto state guadagnando, quanti blocchi state minando e così via. Non possiamo non parlare di criptografia quando parliamo di blockchain, perché? Perché la criptografia della blockchain è basata su un'impronta digitale, un hash, che altro non è un contenitore di una certa informazione in maniera estremamente sintetica, in particolare bitcoin, quindi non tutte le blockchain usano lo stesso algoritmo di bitcoin, in particolare bitcoin usa la SHA-256, SHA sta per secure a SHA algorithm, ed è un set di funzioni hash di criptografia disegnate dall'NSA che è la National Security Agency americana, quindi è un algoritmo criptografico estremamente sicuro, usato in ambito militare. Le hash sono funzioni one way, vuol dire che una volta che avete criptografato il contenuto, e vi voglio far vedere un esempio, una volta che lo avete criptografato quel contenuto non potete tornare al contenuto originale, quindi avete il vostro hash number, chiamiamolo così, ma voi indietro non ci tornate più, ecco perché la blockchain è immutabile, non tornate più alla transazione originale con le informazioni originali. E c'è questo esempio che vediamo se riesco a switchare al volo, devo portare il di qua, il browser, sì è un pochino scomodo effettivamente, allora, 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 dovevo averlo aperto da qualche parte, eccolo qua, vedete questa è la rappresentazione del hash se ce lo carica, vedete questo numero qua, se io qua scrivo vedete che questo numero cambia, perché questa è la rappresentazione criptografata, utilizzando quell'algoritmo, dell'informazione, dei dati che sto inserendo lì dentro, e lì dentro ci potete mettere qualsiasi dato, adesso ci sto mettendo del testo, ma potete metterci dei digital asset, come nel caso degli smart contract, l'informazione è leggerissima, potete copiare e incollare la divina commedia, comunque ottenete un hash number, quindi informazione estremamente compatta e sintetica, e questa è l'informazione che viene scritta nel blocco della blockchain, ecco questa è un'altra confusione che si fa spesso, non viene scritto nel nodo, nel blocco della blockchain l'intera informazione, ma solo la sua rappresentazione criptografata, sintetica dell'hash, dell'hash function, che sarà data dall'hash function. Allora, ok, importante nella costruzione dei blocchi di una blockchain è il NANCE, NANCE sta per number once used, quindi il numero usato una volta sola, ed è il numero che dal punto di vista della criptografia risolve il problema matematico del dato, quindi in realtà il miner, chi fa mining, va a trovare il numero, quel numero randomico lì affinché il hash function è validata e verificata, è verificata quando davanti ci sono i 4 0, nel caso di Bitcoin la complessità è arrivata ad un livello tale che i blocchi 0 non sono più 4 da trovare ma sono 8, motivo per cui servono, serve un'infrastruttura di computer estremamente potenti per fare il mining di Bitcoin. Quindi il NANCE, ricordatevelo, è molto importante, è il numero che rende valido il blocco e questo è quello che vi ho detto. Maggiore lashing power, questa cosa di Bitcoin che vi stavo dicendo, maggiore è il livello di difficoltà. Su Bitcoin, BTC, il token di Bitcoin è aggiornato ogni due settimane e fanno questo in modo tale da assicurarsi, cioè lo fanno per assicurarsi che i miners possano competere in maniera giusta e riescano a risolvere un blocco ogni 10 minuti. Sulla blockchain di Bitcoin viene aggiunto un nuovo blocco ogni 10 minuti. Ogni blocco della, perché come vi ho detto prima è un file la blockchain, quindi ogni blocco della blockchain è collegato al precedente attraverso che cosa? Attraverso l'hash number precedente, dovevi avere un capture per farvelo vedere, adesso farvi vedere la demo mancano 10 minuti, non ce la faccio. Però ogni blocco è legato in maniera criptografata al successivo. Questo vuol dire che se viene fatta una modifica, motivo per cui è immutabile la blockchain, se viene fatta una modifica al secondo blocco per esempio, tutti i blocchi avanti devono di nuovo essere minati e affinché un miner sia in grado di minare entro i 10 minuti un blocco vuol dire che deve avere più del 51% del lashing power di tutti gli altri, che vuol dire non essere in grado di modificare e riminare tutta quanta l'intera catena della blockchain di una criptovaluta. È questo che fa il balance e rende sicura la blockchain di una criptovaluta ragazzi. E quindi sì, bisogna risolvere il nance di ogni blocco successivi facendo il mining. Una volta che il miner, nella competizione dei miner, c'è un miner che riesce a risolvere prima di tutti il problema matematico e criptografico, e quindi trovi il number di cui parlavamo prima, quello che succede è che tutti gli altri miners in maniera collaborativa verificano la validità della soluzione provata. Questo è quello che si chiama la proof of work della blockchain. Cioè la prova del lavoro è il motivo per cui quel miner viene poi ripagato in bitcoin per il lavoro che ha svolto. Perché prima sono in competizione i miner, poi invece lavorano in maniera collaborativa insieme per verificare che la soluzione sia corretta. È un modello fantastico ragazzi, veramente è sconvolgente per la sua semplicità e complessità allo stesso modo. È ovvio che non potete in questa presentazione velocissima e estremamente semplificata apprezzarne la qualità, però vi dico indagate perché queste cose, avere nel proprio baglio culturale queste informazioni veramente vi fa avere una marcia in più da qui ai prossimi n anni. Io ne sono sicuro, è questo, non solo io, è questo il futuro a cui andiamo incontro. Il blocco a questo punto, dopo la proof of work, viene aggiunto alla blockchain e qui c'è un altro esempio, lo potete andare a vedere poi da soli, è molto semplice per farvi vedere come i blocchi lavorano insieme, sono legati tra di loro e come se cambiate un'informazione su un blocco, tutti i blocchi successivi vengono modificati e vanno riminati. Quindi riminati nel senso bisogna rifare il mining, passatemi il termine. Arriviamo a parlare di Bitcoin velocemente, perché a me interessa più farvi vedere qualcosina di Ethereum e degli smart contracts. Bitcoin è una valuta digitale, oggi è considerata un asset, un class asset al pari dell'oro, benché molti in Wall Street non...